Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione che sarà la finale della lezione precedente, che è il libro di Apocalisse capitolo 6. Abbiamo già fatto la lezione dal primo versetto fino al quattordicesimo versetto. Perciò per coloro che devono capire tutto il libro dell'Apocalisse capitolo 6 devono andare a vedere i video precedenti. Questa lezione sarà basata sulle ultime tre versetti da 15 al 17. E prima di iniziare voglio lodare, dare tutto l'odi dovuto al padre Yahawa nel nome di suo figlio, il nostro re, rendentore, salvatore, Yahawashai, e i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone per avermi insegnato questa verità. Pace, come sempre, alla casa di Israele e a coloro che con sincerità cercano la verità e coloro che fanno il lavoro di spargere questa verità affinché possa arrivare sui quattro punti della terra. Shalom. Inizio leggendo dal libro di Apocalisse capitolo 6, come avevo già nominato prima. Iniziamo da versetto, anzi inizio da versetto 14 per darvi una sorta di repilogo di quello che abbiamo fatto che dice il cielo si ritirò come una pergamena che si arrottola e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. Qui sta parlando della bomba atomica che a causa della terza guerra mondiale ci sarà questa bomba atomica che saranno rilasciati da diversi paesi e colpirà soprattutto America. America rimarrà desole, un deserto. Ok? Per capirne di più andate a vedere il video precedente. Ok? Andiamo avanti. Versetto 15. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascossero nelle spelonche e tra le rocche dei monti e dicevano ai monti e alle rocche cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul tuono e dall'ira dell'agnello perché è venuto il gran giorno della loro ira. Chi può resistere? E qui se guardate noterete che qui dice i re della terra. Chi sono i re della terra prima di tutto? I re della terra sono le famiglie che gestiscono tutto. Ok? E parliamo delle famiglie più ricche. Ok? Al mondo. Si parla della Rothschild, della Rockefeller, la famiglia dei re, della regina. Ok? La famiglia dei medici. Si parla del Vaticano. Si parla di... Fate le vostre ricerche su queste famiglie più ricche. Soprattutto le famiglie bancarie. Ok? Sono coloro che gestiscono, sono loro i re di questa terra. Ok? I grandi. Ok? I grandi, come vi avevo già nominato, sono i loro pazzi che usano i loro marionetti, i politici, i giudici. Ok? Tutta questa gente che fanno da comodità questa gente qua. Tutta questa gente che è a mano, ok? Assieme a questi super ricchi potenti del mondo a portare avanti tutte le menzogne e a mettere sempre in schiavitù il popolo. Tutta questa gente si parla. Si parla dei generali. Ok? I generali dei loro eserciti. Ok? Perché ogni paese, come sapete, hanno eserciti diversi. E hanno generali. Ok? Perché alla fine tutti questi generali verranno insieme. Ecco perché hanno formato il Nato. Ok? Il Nato sarà questo esercito a dover fare l'ultimo, l'ultima guerra contro i figli e i padri Hawa Shai a suo ritorno. Ecco perché stanno creando delle stazioni spaziali, NASA, e dicono che aspettano, vedono movimenti e aspettano arrivi degli UFO, degli alieni da un altro pianeta e devono essere pronti. Ecco perché hanno creato questa megastruttura CERN. Si chiama CERN, Como, Empoli, Rimini, Napoli e lo Spelling. Andate a fare un po' la ricerca su quello. L'hanno creato in Svizzera. E tutto questo l'hanno fatto per combattere contro il figlio del padre. Perché loro sanno la verità. Siamo solo noi che non sappiamo la verità e non vogliamo svegliarci. E come dice sempre il libro di Isaia, mi sa, capitolo 1 e 3, o 3 e 1, non mi ricordo adesso, che dice, e là se non conosce la sua casa, e poi conosce il suo maestro, ma Israele, no. non intende. Ok? E i potenti, vi ho già spiegato, e ogni schiavo, e ogni uomo libero. I schiavi sono coloro che lavorano degnamente sotto questo sistema. Lavorano per i potenti e sono felici e contenti di stare su questo, questa posizione. E loro non vogliono sapere la verità. Ok? Li va bene così essere assieme con questa gente qui. Ok? Ad essere strumenti nelle loro mani. Ok? E poi si parla di questi uomini liberi sono i nostri, nostri celebrità. Tutte queste celebrità si credono liberi e si credono anche loro uomini potenti, perché il sistema li ha arricchito. Ok? Tutta questa gente sono le persone nominate qui. Ok? E dice si nascossero nelle spellonche e tra le rocche dei monti e dicevano ai monti e alle rocche cadeteci attorso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Perciò questa gente quello che sta parlando qui sta parlando. Ok? Vi ricordo sempre Giovanni che vedeva questa visione, vedeva un futuro che non sapeva di cosa si trattava. Ok? Vedeva cose che non aveva mai visto nei suoi giorni e doveva spiegargli con qualcosa che sapeva. Ecco vi dico cosa sono. Sono dei bunker che questi ricchi si sono costruiti. Ok? Tutti i grossi del mondo, tutte le famiglie più ricche e le famiglie bancarie, celebrità, tutta questa gente che ha soldi hanno creato dei bunker. Soprattutto se guardate in America ci sono dei mega bunker che hanno, i bunker sono le case sotterranie, ok? Che hanno costruito contro le bombe nucleari che loro sanno che arriva qualcosa. E Bush, lo stesso Bush che l'uomo, cosiddetto l'uomo più ricco, lui c'è un bunker assurdo, ok? Che loro si preparano per l'apocalisse, il tempio apocalittico. Se loro si preparano e sanno cosa sta per avvenire, ok? E infatti ho dei video messo a parte per farvi vedere. Vediamo questi brevi video poi dopo torniamo a parlare. Gli Stati Uniti è presente un bunker in cui i super ricchi possono rifugiarsi in caso arriva la fine del mondo. Il bunker di lusso ha un parco per cani internato, un cinema e varie piscine. Ogni appartamento al suo interno è apprezzato a partire a 2 milioni di euro ed abbastanza cibo per sfamare i residenti per più di 5 anni ed è stata progettata per fornire la massima protezione da qualsiasi tipo di attacco dal mondo esterno. Dal rifugio anti-atomico monolocale al più grande bunker per miliardari. La maggior parte delle persone crede che i bunker siano solamente dalle semplici strutture sotterranee, nascoste dietro una porta a prova di esplosione che ti possono salvare dai nemici o da un'apocalisse. Forse non avete idea che sotto i normali bunker si nascondono alcune strutture davvero strane e uniche che costano un sacco di soldi. Con voi è Top Way e oggi vi presento i 10 bunker di sopravvivenza più incredibili al mondo. Iscrivetevi, lasciate un mi piace e partiamo! The Survival Condo Apriamo la nostra lista con il famoso Survival Condo situato in Kansas. La costruzione di questo bunker a più piani è costata 20 milioni di dollari. L'idea per questo progetto spettacolare è apparsa nel 2008 quando l'ex sviluppatore di datacenter Larry Hall ha acquistato una miniera di razzi fuori uso per 300 mila dollari. Ha completamente cambiato le cose e ha creato un tipo di bunker molto interessante che dovrebbe salvare le persone il giorno del giudizio e naturalmente deve essere davvero ricco per permetterti il soggiorno dopo una possibile catastrofe. Il cibo è sufficiente per esistere almeno 5 anni siccome ci sono orti dove crescono tutti i tipi di ortaggi. Ecco alcuni fatti interessanti sul Survival Condo. La porta d'ingresso pesa oltre 14 tonnellate e mezzo. I suoi muri di cemento sono spessi 9 metri. Ci sono un totale di 12 piani interrati ovvero 12 appartamenti separati. Un piano costa 3 milioni di dollari e l'affitto è di 2600 dollari al mese. Il bunker stesso può ospitare 70 persone. Tutto ciò può sembrare sorprendente ma attualmente tutti gli appartamenti con gli alti soffitti e gli ampi soggiorni di questo lusso complesso di 50 piani profondo 60 metri sono esauriti. Ogni appartamento è un piano separato. C'è anche una palestra con piscina, spa, cinema, biblioteca e bar. L'edificio è dotato di filtri per l'aria in caso di minacce chimiche, biologiche o nucleari. Sono presenti generatori e turbine che forniscono alimentazione autonoma ed è presente un'ampia riserva idrica. Per motivi di sicurezza l'esatta posizione del bunker è sconosciuta. Georgia Bunker Situato nello stato dalla Georgia negli Stati Uniti, questo bunker è molto più piccolo rispetto al precedente ed è anche molto più economico. Il suo costo totale è di 17 milioni e mezzo di dollari, ma questo non significa che non sia un rifugio affidabile in caso di una catastrofe globale. Al contrario, questa fortezza sotterranea può proteggere i suoi residenti anche da enormi asteroidi, attacchi chimici e esplosioni nucleari. Eccoci qui. Si ce ne sono diversi video, se vi interessa saperne di più andate a vedere su internet, su youtube, dappertutto sono pieni di questi bunker qua e se notate bene nei video parlano sempre dei giorni del giudizio e di bombe nucleari e queste cose qua. Perciò i super ricchi conoscono la verità, sanno chi sono, sanno che sono i figli dei malvagi, sanno che sono i figli di Esau. Ecco perché loro fanno di tutto per aumentare il popolo affinché noi non ci svegliamo alla verità. Perché una volta che il numero è completo, come abbiamo letto già in passato su sempre il libro di Apocalisse, guardate i video precedenti. Quando il numero è completo il padre manderà giù tutte le distruzioni. Ok? Ora per darvi un po' di precetti su questo finale. Continuiamo a leggere e dice perché è venuto. Allora, e dicevano ai monti e alle rocce cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede su tuono e dall'ira dell'anielo perché è venuto il gran giorno della loro ira. Chi può resistere? Ora parliamo di questo gran giorno qui. È un giorno proprio, un giorno soprattutto di vittoria per i santi che hanno aspettato con pazienza. Ok? E poi comunque è un giorno buio, un giorno di spargimento di sangue, è un giorno di distruzione, è un giorno che nessuno ha mai visto dall'inizio della creazione ed è un giorno che nessuno prega mai di vedere. Ok? Andiamo a leggere come sarà questa finale per questa gente. Leggiamo dal libro di Isaia. Ok, il libro di Isaia capitolo 2. Leggiamo versetto 11 che dice Lo sguardo altero dell'uomo sarà umiliato e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Ok? Avete visto? Quel giorno tutti questi uomini qui ricchi che sono pieni di orgoglio, tutta questa celebrità che cantano di cavolate, soldi, donne, questo là, l'altro, pieni di orgoglio. Dice, verrete umiliati quel giorno là. Verrete proprio umiliati perché quello, quello che, quello che avete creduto verrà tutto proprio, verrà tutto giù. Ok? E andiamo a vedere anche da qui. La terilia dell'uomo sarà umiliato, dal versetto 17. La terilia dell'uomo sarà umiliato e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore Yahweh, Yahweh Shai, solo sarà esaltato in quel giorno. Gli idoli scompariranno del tutto. Cosa sono gli idoli? Le vostre ricchezze che vi fate vedere, le macchine grosse, questi artisti qui con 200 collane d'oro su colo, tutte quelle cose là, li getterete fuori proprio quel giorno là, li getterete fuori perché quello che vedrete, cioè, perdonatemi o francese, vi cagherete addosso proprio. Ok? E poi qui dici, gli uomini entreranno nelle caverne, come abbiamo letto prima, come vi ho fatto vedere. Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per sottrarsi al terrore del Signore Yahweh Shai e allo splendore della Sua Maestà, quando Egli sorgerà per far tremare la terra. E avete visto come sarà il suo sorgimento? Viverà con i navicelli, ok? Questo si trova nel libro di Matteo 24, ok? Arriverà, mi sa che dal versetto 30 lo vedrete lì, arriverà nei navicelli, il suo navicello, c'è il navicello madre che è enorme, ok? Che Matteo lo ha descritto come una monte, ok? Perciò state pronti per quel giorno là, perché ora noi stiamo dicendolo, vi stiamo aprendo gli occhi alla verità, tanti prendono in giro, tanti ridono, ok? Ma secondo voi tutti questi ricchi fanno tutte queste cose qui, per cosa? Per giocarci? Per lo fanno così, senza nessun scopo? Perché secondo voi hanno creato l'esercito spaziale? Perché secondo voi hanno creato, nato, la potenza militare più grande sulla terra? Ok? Per combattere contro muri? Secondo voi? Dai, svegliatevi, ok? In quel giorno gli uomini getteranno ai topi, ai topi, ai pipistrelli, idoli d'accento e d'oro che si erano fatti per adorarli, e siate pronti, ed entreranno nelle fesure della roccia e dei crepaci delle ruppi per sottrarsi al terrore del Signore, Yahweh Shai, e allo splendore della Sua Maestà, quando Egli sorgerà per far tremare la terra, perché Lui viene per far tremare la terra. Non è nulla di quello che vi insegnano in chiesa, in tutte quelle religioni false che arriverà e comincerà ad abbracciare tutti, a fare, oh, tutte queste chiese che avete insegnato, menzoni e sarete i primi a essere distrutti, vi verrà giù il fuoco concentrato e vi brucerà tutti, ok? Incluso il Vaticano, la chiesa dei Molmoni, la chiesa dei Geova, tutta quella gente là che avete sparso la bugia, che avete partecipato a far andare avanti tutta questa bugia qui, vedete tutti bruciati, vedete tutti bruciati, e due tezzi della casa di Israele che hanno dato mano a questi complotti qui, che noi gli diciamo la verità e ci prendono in giro, due tezzi sarete tutti bruciati, ok? Se non cambiate, solo la casa di Israele, ma due tezzi è già scritto che sarete tutti ammazzati quel giorno là, e noi non facciamo altro che ridere, ok? Avete riso finora, ok? Quando vi diciamo questa verità, quei giorni arrivano, rideremo noi, ok? E voi avrete il terrore e morirete lentamente, ok? Scusatemi, leggo l'ultimo versetto che dice, smettete di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio, infatti quale importanza gli si potrebbe attribuire, bene, ok? Adesso vi stiamo raccontando la verità, ma voi avete il vostro confido sui uomini, sui vostri politici, quello che vi diranno di fare, prendete il vaccino e capre, come sempre, animali senza cervello, andrete subito a fare tutto quello che vi fanno per portarvi alla morte, perché non volete lasciare il vostro lavoro, non volete lasciare quei soldi che vi danno, perché volete vivere bene, volete il conforto, ma il padre dice che colui che ha l'amore di questo mondo non ha nessun amore del padre, ok? Le scritture ci dice anche che questo non è la nostra dimora, ok? Questo regno non è la nostra dimora, è la dimora dei malvagi. Arriva un nuovo regno che sarà governato dai santi, ok? Che sono i veri figli di Israele, non quei topi schifosi là che sono seduti in Israele, ok? Perciò fate attenzione, ok? Voi che avete la vostra fiducia sui uomini, arriva quel giorno, ok? Il fuoco sarete bruciati di tutti, ok? E andiamo a vedere dal libro di Apocalisse, diciamo capitolo 19 e versetto 19, che dice, e vedi la bestia, il re della terra, i loro eserciti radunati per fare guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Avete visto? Quando vi dicevo della bestia del sistema, e quale è il sistema? Il sistema che hanno messo, il sistema di Babilonia, l'esercito del sistema è nato, è la nato, ok? Ed è tutto quello che vi ho sempre detto, che hanno creato tutto questo esercito, l'esercito spaziale, tutto in collaborazione, America e tutti gli altri paesi europei. Avete visto? E vedi la bestia, i re della terra e i loro eserciti radunati per fare guerra a colui che era sul cavallo. Questo cavallo era per povertà di parole a Giovanni, era il navicello degli Hawashai e i suoi angeli, ok? Il suo navicello è quanto grande la montagna e quel giorno solo alla vista di quello la gente cagherà addosso, perdonate il mio francesismo, e al suo esercito, ok? Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto segni miracolosi davanti a lei, con i quali aveva seduto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Avete visto? Il marchio della bestia e il microchip, ok? Il marchio della bestia e il microchip che stanno preparando già. Appena dopo, appena dopo i vaccini arrivano i microchip e coloro che prendono i vaccini sicuramente prenderanno i microchip, senza altro, perché funzioneranno assieme, ok? Ora vi stiamo dicendo la verità, ci prendete in giro, ma quel giorno noi rideremo, ok? Questa è la fine, ok? Davanti a lei, con quelli avevano seduto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine, tutti e due furono gettati vivi. La sua immagine è questo falso Gesù, ok? Questo falso Gesù che hanno messo, c'è la descrizione, c'è la descrizione del figlio del padre, che il suo nome non è Gesù. Per capirne di più andate a vedere i video precedenti che ho fatto, ok? Gesù viene dalla parola greca che vuol dire Allah Zeus, ok? Non vuol dire un cazzo, perdonate il mio francesismo, ok? La mia gente perisce per la mancanza di saggezza, di conoscenza, ok? Il libro di Osea capitolo, capitolo 8, 2, non mi ricordo comunque, non sono certo, ok? La gente muore per l'ignoranza, ok? C'è descritto che uno ha il corpo di bronzo come bronzo, con colore di bronzo, ok? Ma avete uno là rosso, dei figli di Esau, anzi la foto di un pedofilo, di un assassino, ed è quello che adorano nelle chiese, è quello che chiamano i figli di Dù. Guarda, aspettate che arriva il fuoco per ognuno di voi, ok? Quelli che avevano preso il marchio della bestia e tutti che adoravano la sua immagine, tutti e due furono gettati vivi nello stagno a dente di fuoco e di zolfo, questo sta parlando, ok? Dei laser, ok? Il fuoco concentrato che verranno fuori da quei navicelli così chiamati ufo, ok? Vi brucerà proprio, brucerà tutta quella gente là, ok? Dalle bombe, ok? Fuoco proprio concentrato che vengono fuori dai cari del padre, ok? Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, ok? Come sapete il cavallo non sputta fuoco, perciò questo sta parlando della navicella, ok? Dei Yahuasai, ok? E che cosa sputtava? Il laser, il fuoco concentrato, ok? E tutti gli uccelli si sazieranno dalle loro carni, perché quel giorno ci sarà così tanta morte, ok? Yahuasai dovrebbe chiamare, ok? I uccelli a venire a divorare quei corpi là, ok? Per fare spazio. Ora andiamo a leggere dal libro di Daniele. E ora vi stiamo dicendo questa verità qui, la gente prende in giro e pensa che è uno scherzo, pensa che prende tutto come nulla, ok? E si affidano a uomini senza cervello, uomini stupidi, si affidano a politici stupidi, ok? A marionetti, gente che, mamma mia, svegliatevi, soprattutto i figli di Israele, perché questo messaggio non è per nessuno altro, ma i figli di Israele tra di voi, per sapere che sei un figlio di Israele il tuo spirito ti giudicherà e il tuo spirito ti dirà, la tua conscienza ti farà sapere, ok? Perché non è questione di colore, ok? Siamo stati sparsi dappertutto, abbiamo miscolato il nostro seme con il seme delle altre nazioni, tanti israeliti sono diventati come le altre nazioni, ok? Perciò non è il colore che conta, è lo spirito che ti dice, ok? Il tuo spirito ti sta avvicinando a questa verità, ma lo ignori, verrai bruciato quel giorno, ok? Ora leggiamo dal libro di Daniele, 12 capitolo 2, è un versetto 2, scusatemi. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'eterna infamia, ok? I saggi splenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno, ok? Qui che cosa sta dicendo? Quelli che erano già morti, ok? Quelli che sono morti in questi ultimi tempi, molti, ok? Si risveglieranno in vita eternità, e qua si sta parlando dei figli di Israele, ok? Perché Israele avrà la misericordia tutti, nonostante anche se sei stato malvagio, anche se sei stato ucciso, poi, se sei stato giusto, se sei stato malvagio, se gli sveglieremo tutti, e i figli dei malvagi torneranno, ok? Si sveglieranno in vergogna e un'eterna infamia, ok? Saranno, diventeranno i nostri schiavi poi, ok? E' questo che sta dicendo questo versetto qui, ora, andiamo a vedere velocemente il libro di Isaia, il libro di Isaia era 24, ok? Il versetto 10, che dice, La città deserta è in rovina, ogni casa è serata, nessuno più vi entra, per le strade si odono lamenti, perché non c'è vino, ogni gioia è tramontata, l'allegrezza è andata via dal paese, nella città non resta che la desolazione e la porta sfondata cade in rovina, poiché avviene in mezzo alla terra fra i popoli, ciò che avviene quando si scuotono gli olivi, quando si raccimola dopo la vendemia, ok? I superstiti alzano la voce, mandano grida di gioia, acclamano dal mare la maestà del Signore Yahweh, Hashem Yahweh, glorificate dunque il Signore Yahweh, Hashem Yahweh, nelle regioni dell'Aurora, glorificate il nome del Signore Yahweh, il potere dell'Israele, nelle isole del mare, dall'estremità della terra, udano cantare gloria al giusto, ma io dico, aime, aime, guai, a me, i perfidi agiscono perfidamente, sì, i perfidi raddoppiano i perfidi, ok? Spavento, fossa, lascio di sovrastano e abitanti della terra, avverrà che chi fuggerà davanti alle gridi di spavento cadrà nella fossa, chi risalirà dalla fossa resterà preso nel lascio, ok? Poi si apriranno dall'alto le decaterate e le fondamenta della terra tremeranno, la terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra tremerà, traballerà, ok? Questo sta parlando di quel giorno là, questa città di chi sta parlando è America, America rimarrà un deserto per sempre, ok? America ha troppo sangue nelle mani, è dello stesso popolo, ok? Che tutti gli eromiti, gli europei, ok? E quelli che rimarranno vivi, ora vi farò vedere la vostra fine, ok? Comunque questa città sta parlando di America e cosa farà traballare e tramare una terra, la terra, una città, le bombe nucleare, ok? Le bombe nucleare, ok? La terra vacolerà come un ubriaco, vacillerà come una capana, il suo peccato grava su di lei, essa cade e non si rialzerà mai più e questo se andate a vedere questa terra qui sta parlando di una città, ok? Sta parlando di una nazione e questa nazione è la nazione dei figli di Edomiti e dove hanno il capitale? Il capitale è America, America non si rialzerà mai più, sarà desole e rimarrà un deserto per sempre e tutti i suoi complici, tutti i suoi agliati, europei, il nato, ok? Farete la stessa fine anche voi, ok? Farete la stessa fine, Italia incluso, Svizzera, Germania, ok? Quelli che non fanno parte della casa di Israele, anche se questi paesi contengono un sacco di israeliti, ma quelli che sono i figli di Esau, siate pronti, siate pronti, la fine è brutta per voi, ok? E quel giorno il Signore punirà nei luoghi eccelsi, l'esercito di lassù e giù sulla terra, i re della terra, saranno riuniti assieme, questo è così chiamato l'ultima guerra, la mortezza della guerra mondiale, la guerra di Armageddon, ok? Questo è l'esercito del nato, come si fa dei prigionieri nel cacere sotterraneo, saranno rinchiusi nelle prigioni e dopo molti giorni saranno puniti, ok? Questi saranno i ricchi, quelli là che andranno a nascondersi sotto i bunker, quelle cose là, ok? Se voi il padre vi lascerà così non morirete subito, ok? Ma poi subito veniamo a prendervi da quei buchi là e sarete i primi schiavi, indovinate quale sarà il vostro primo lavoro, di raccogliere i cadavere dappertutto, questo sarà il vostro primo lavoro e soffrirete per sempre, sarete sotto per sempre, avrete nel culo i nostri piedi ogni giorno, ok? Perdonate il mio francesismo e lo spirito è su di me per parlare così, ok? Perché bisogna parlare così a questa gente qua, questa è la profezia, ok? La luna sarà coperta di rosore e il sole si vergogna, poiché Yehawah, Signore, Yehawah Bashem Yehawah Shai, degli eserciti regnerà su Monte Sion e in Gerusalemme, fuggito di gloria in presenza dei suoi anziani, ok? Coloro che non vogliono che avrà questo regno qui, siate pronti, siate pronti a giudizio alle porte, ok? Io sono felice perché sta succedendo tutto così tanto veloce, dall'anno scorso, da un bel po', dall'inizio dell'anno che, da tanti anni che gli anziani apostoli della Great New Stone che parlano di questa cosa che deve succedere, una sorta di virus, una sorta di microchip, la gente hanno sempre preso in giro, ok? La gente hanno sempre preso in giro e sta avvenendo tutto velocemente. Abbiamo visto anche ieri nel giornale che America sta dicendo che appena esce il vaccino lo darà a tutti i suoi popoli entro 24 ore e sarà usato in militare. Io so che loro sono i primi a far vedere l'esempio che devono seguire gli altri paesi agliati europei, ok? Comunque siate pronti per la fine, che la fine non è un giorno da ridere proprio, ok? Ora leggiamo dal libro di Isaia 33, versetto 1. Guai a te che devasti e non sei stato devastato, che sei perfido e non ti sei stata usata perfidia. Quando avrai finito di devastare, sarai devastato. Quando avrai finito di essere perfido, ti sarai usato perfidia, ok? Questo sta parlando alle famiglie super ricche che hanno governato la terra finora. Coloro che sono andati in Gerusalemme a distruggere Gerusalemme, a dispaldere i figli di Israele e quelli che sono scappati, soprattutto la tribù di Giuda che sono scappati in ovest Africa, sono andati lì a prenderli come schiavi e li hanno portati a costruire America. America è costruita su sangue. Sono arrivati lì sul continente, che lì hanno ucciso, ok? Le tribù, la tribù di Issac che era già là, i figli di Israele, hanno ucciso, avete immaginato? Hanno ucciso e quelli che non sono stati uccisi li hanno messo in schiavitù fino a domani, ok? E la stessa cosa che avete fatto verrà fatta a voi. Questa è la legge, ok? Un occhio per un occhio e verrà fatta a voi, ok? I figli di Israele che erano in Europa, che hanno comandato per tanti anni, i loro figli sono messi sotto, sono concentrati in gran parte sulle sud d'Europa, ok? Anche in Italia, sul sud Italia, sono concentrati in gran parte. Quelli che non sono in sud sono usati male, devono soffrire, pagare tasse, tutte queste cose qui, ok? E questo si sta parlando di voi, questo versetto qui. E per chiudere, vado a leggervi proprio la finale e chiudo. leggo dal libro di Apocalisse, capitolo 13, il versetto 10, ok? Che dice? Se uno deve andare in prigione, andrà in prigione, se uno deve essere ucciso con la spada, no, leggo un'altra, un'altra versione che non ci sto bene con quella versione, cosa dice? no, ma perché le versioni italiane sono così? Ecco, avete visto che questo è diverso? E dice, se uno uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada, ok? Se uno metta in cattività, andrà in cattività, ok? Se uno ha orecchio, ascolti, ok? Intanto iniziamo dal versetto 9, che dice, se uno ha orecchio, ascolti. E quando vedete parlare così nelle scritture, sta parlando ai figli eletti di Israele che possono capire, perché non tutti possono capire queste cose. Se uno mena in cattività, andrà in cattività. Se uno uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la constanza e la fede dei santi. Avete visto? Questa è la nostra speranza. Noi che conosciamo questa verità, questa è la nostra fede, perché coloro che ci hanno messo in cattività finora, andranno in cattività e saranno i nostri schiafi, ok? Coloro che hanno ucciso con la spada, verranno uccisi di nuovo con la spada. Sono andati in diversi paesi a buttare giù bombe, a distruggere, a fare tutte queste grandi cose di spargimento di sangue e questo verrà fatto a loro, ok? E questa è la nostra fede ed è questo a cui teniamo noi che siamo i santi, i fedeli, che abbiamo la completezza di questa verità, ok? Io spero che questa lezione vi abbia edificato. Andremo avanti poi prossimamente a fare altri capitoli del libro di Apocalisse, ok? Affinché possiamo arrivare anche alla fine. Yahu, b'ha, shem, yahu, shai, volendo, ok? Mie saluti a un terzo della casa e ai 144.000 eletti della casa di Israele, coloro che stanno cercando sinceramente la verità e che stanno facendo il lavoro di spargere questa verità affinché possa arrivare ai quattro punti della terra. Mie doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone per avermi insegnato questa verità. E alla prossima. Shalom.